Tutti per uno, un metodo per tutti è lo slogan del convegno promosso dalla Fondazione Ruffini che si è svolto a Ivrea presso le officine H nella giornata dell'8 novembre. Si è parlato di come orientarsi nella scuola tra disturbi di apprendimento e dislessia, di fatto è stata anche l'occasione per discutere, per divulgare gli esiti di un importante progetto che in questi due anni scolastici è stato realizzato nelle scuole del territorio per iniziativa della Fondazione Ruffini e proprio di questo progetto e degli obiettivi del convegno parliamo con la dottoressa Annalisa Visentin che è stata la curatrice, la coordinatrice del progetto Riuscire. Di cosa si è trattato e quali sono i risultati del progetto? Allora, il tentativo è stato quello di applicare in interi gruppi classe i metodi che in genere vengono utilizzati per i ragazzi di ISA e di portare nelle classe anche l'utilizzo di metodi compensativi come l'utilizzo dei PC. Il percorso ha visto anche la formazione di insegnanti e adulti. Gli esiti del progetto, allora dal punto di vista dell'oggettività abbiamo somministrato dei questionari di soddisfazioni che danno tutti dei risultati molto alti, quindi il progetto è piaciuto, è servito. Dal punto di vista invece dell'efficacia del progetto non abbiamo, anche perché è troppo presto, dei risultati oggettivi da raccontarvi, ma abbiamo quello che raccontano gli insegnanti, quindi i ragazzi che hanno migliorato i loro risultati, ragazzi che accettano la loro condizione e quindi accettano di usare questi come strumenti compensativi perché spesso, non accettandosi, evitano di dimostrare che loro sostanzialmente hanno delle difficoltà e credo che questi siano i risultati migliori. La dottoressa Alessandra Luci ha partecipato oggi al convegno sui problemi della dislessia, è un'esperta nazionale su questo tema, è psicologa, logopedista, psicoterapeuta, da moltissimi anni si occupa del tema. Le facciamo una domanda proprio molto precisa e puntuale, ma la sensazione che si ha nella scuola e anche fra le famiglie è che la dislessia sia in aumento rispetto al passato. E' giusta questa sensazione o è soltanto una illusione dovuta ad un altro fenomeno? Dipende da cosa intendi, nel senso che oggi è più diagnosticata sicuramente, però c'è sempre stata, c'è sempre stata perché è un disturbo a carattere neurobiologico, i bambini ci nascono, ma dipende come tutti i disturbi psicopatologici dalla società in cui il problema si manifesta. Come a dire, un bambino nasce dislessico oggi in Italia come nasce dislessico nella società degli aborigeni australiani, ma la società degli aborigeni australiani è analfabeta, quindi la dislessia non si manifesta. Se noi pensiamo alla condizione italiana del primo e secondo dopoguerra, c'era ancora molto analfabetismo, quindi un ragazzo che leggeva male, perché la dislessia questo è, leggere evidentemente con errori, in una società in cui molti ancora erano analfabeti, non era un problema. Più avanti, e parlo anche di quando andavo a scuola io, andare male a scuola, non saper leggere, non era questo dramma, perché che si diceva? Signora, il ragazzo è intelligente, non si applica, farà un lavoro pratico. E io ho amici che hanno la terza media, che fanno l'elettricista, o un'amica, una signora che conosco, che ha la quinta elementare e che fa la sarta. Ora, se un disturbo ti disturba solo per cinque anni di elementari, al massimo fino a otto di medie, tu vivi bene lo stesso. Fuori dalla scuola, all'epoca, non era richiesto di leggere quanto è richiesto oggi. La situazione dell'Italia di oggi è che tutti devono fare gli elementari, tutti devono fare le medie, tutti devono fare almeno i primi due anni di superiori. Poi, tutti finiscono l'università, il liceo, e quasi tutti fanno l'università. Ora, un bambino che si trova a rendersi conto di davvero affrontare il dramma della lettura e scrittura, quando tu sei uno intelligente, ma leggere e scrivere non ci riesci, per i prossimi cinque, più tre, più cinque, più non si sa anni, a meno che non prevedere un vissuto diverso da quello dei tuoi compagni, quindi aspettativi diverse da quelle che possono avere i tuoi genitori, quello ti fa soffrire. Nel momento in cui c'è una cosa che ti fa soffrire, lo Stato, la sanità, la scuola devono farsene carico, da cui la legge 170, che non a casa è data da 2010, e la necessità di fare diagnosi oggi per intervenire e aiutare questi piccoli. Quindi questo vuol dire che la dislessia non è una vera e propria malattia e non è una cosa dalla quale si guarisce, però è una cosa che può essere affrontata dentro la scuola e dentro la famiglia. Diciamo che viene definita come disturbo neurobiologico e che va affrontata nella scuola. Non si guarisce nel senso che non è una malattia, ma soprattutto nel senso che è un disturbo a carattere persistenze. Ci nasci, ci muori, lo trasmetti ai figli. Questo è. Però si può e si deve intervenire. Ecco, uno dei problemi molto importanti nel trattamento della dislessia è anche quello del ruolo della famiglia. Cioè la scuola ha sicuramente una funzione decisiva, perché deve attivare tutta una serie di iniziative, strumenti per compensare o per aiutare comunque i ragazzi, però anche la famiglia deve fare la sua parte. Con Daniela Bono ne parliamo perché è una mamma che per tanti anni si è impegnata attivamente per aiutare il figlio Andrea a affrontare questo problema. Cosa ha fatto? Allora, io ho cominciato a collaborare sia con la scuola media che con l'NPI, perché è importante avere tre punti fondamentali, i genitori, la scuola, ma anche l'ASL. Mi sono attivata, ho cercato di capire prima cosa che cos'era la dislessia e che cosa si poteva fare come genitori. E di lì abbiamo iniziato a lavorare a casa facendoci le mappe, perché Andrea quando è iniziato non esisteva niente di tutto ciò. Io prendevo gli appunti dei compagni, ad esempio me li rileggevo e poi lavoravo con lui. Leggevo per lui perché non c'erano le sintesi vocali. E man mano lui ha preso dimestichezza con questi strumenti, sono intervenuti poi i computer. Lui ora usa una sintesi vocale da solo e si fa le mappe e continua a studiare. I genitori che mi contattano e mi dicono allora compro anch'io il computer, ho risolto il problema, non è sufficiente. Se non c'è il genitore che segue o un tutor, chi non può, almeno fino alla seconda superiore. Di lì in poi potranno volare da soli. Tu Andrea hai frequentato l'istituto Cena, se non sbaglio. Per cinque anni sei andato a scuola con il tuo computer. Come ti sei provato? Beh, io innanzitutto non solo nei cinque anni, ma anche nei tre anni prima di medie. Io diciamo che sono stato molto aiutato e poi visto che io ho molta dimestichezza con il computer sono riuscito ad andare avanti. Adesso cosa fai? Adesso sono ad Architettura Torino al Politecnico. Quindi sei riuscito a superare un esame selettivo non da poco? Sì, tutto sommato facendo i geometri comunque si ha una grande base per fare architettura. quindi si riesce a superare. E rispetto ai tuoi compagni di corso come ti senti ora? Beh, speriamo allo stesso livello.